Milano ci accoglie e abbraccia, concerto e un mezzo... L'arpedia andiamo a Roma. Chi o te è carnevale? Stai provando droghe nuove. Guarda che se hai un solito giro di figlio io sto giù, eh. Primo, perché sono fedele. E secondo, perché mi volete rifilare sempre il più cesso. M. Come Matador. O come minchia tata. Non puoi mettere un nome finto di donna come fanno tutte. Non è zandarti a guardare nel mio telefono. Era lì, era lui che guardava. Non farlo mai più! Cosa ci andiamo a fare lì sotto, Rico? Qualche cosa va fatto. Che non è mai stato una volta in orario. Tutte queste vite qui... Tutti made in Italy... Belli come il sole... Grazie per aver guardato.